La verità è una e non bisogna essere ipocriti, l'Italia è stata distrutta da quando è entrata in Unione Europea, non perché l'Europa fosse un male, ma perché non siamo riusciti a governare bene questo processo, a iniziare dal cambio e poi analizzando dei dati, noi nel 2001 siamo entrati in Europa, l'Italia aveva un debito pubblico di 1.600 miliardi, un PIL di 1.600 miliardi, dopo 13 anni di fondi strutturali che dovevano aiutare le regioni d'Italia meno sviluppate, che dovevano creare occupazione e sviluppo, noi abbiamo sempre il PIL di 1.600 miliardi, ma abbiamo un debito pubblico di quasi 2.100 miliardi, a cui vanno aggiunti i tagli della spesa, i comuni ne sanno qualcosa perché negli anni sono stati tagliati 400 miliardi di spesa pubblica ai comuni e alle amministrazioni locali e una mancata politica di sviluppo del territorio. Noi abbiamo dato 250 miliardi all'Europa in qualità di paese appartenente, l'Italia è il terzo paese per economia, dopo Germania e Francia, è il terzo contribuente dell'Unione Europea. Ebbene, in questi 12 anni noi abbiamo avuto restituiti dall'Unione Europea 112 miliardi, ne abbiamo spesi 80 miliardi, quindi non siamo stati nemmeno bravi a spendere quello che abbiamo. E se guardiamo i dati, noi, è un'ecatombe, questo è il peggior capodanno forse mai vissuto perché ad esempio nel settore di l'abbiamo perso 8.000 posti di lavoro in 18 mesi, quando abbiamo da un altro lato 1 miliardo e 200 milioni di euro per la provincia di Salerno, sindaci, aprite bene le orecchie, stanziati dai fondi del Port Campania 2007-2013 spesi per il 10,7% perché noi siamo una gallina delle uova d'oro, noi in Campania abbiamo 4 miliardi e 600 milioni di euro da spendere fino al 2015. abbiamo con molti sindaci del territorio cercato di veicolare i progetti che sul territorio sono già pronti per essere cantierizzati proprio per cercare di spendere questi fondi europei. Ebbene, devo dire che gran parte dei sindaci professore del Cilento non hanno raccolto il nostro appello.